Massimo Bassi è una stagione importante, anche emozionante, pronta ad aprire i battenti, oggi presentazione della squadra e del nuovo main sponsor Autovia, una realtà importante del territorio che ha scelto di sposare la tua realtà. Direi che siamo orgogliosi, contenti perché Autovia è una società nuova, nuova per modo di dire, già nelle prime mille in Europa nel suo lavoro, che sono specialisti in autodolleggio, sono una realtà del nostro territorio, perciò le due cose si sposano alla perfezione, loro vogliono crescere e hanno tutti i mesi per poter crescere, speriamo di poter crescere insieme, io credo che questo fidanzamento porti qualcosa di bene. Grande entusiasmo da parte di Autovia che ha dichiarato di aver puntato in maniera sentita e ponderata sulla tua realtà per farsi conoscere sul nazionale e anche approfittando di quello che è l'attenzione che c'è sulla città per il baseball, non solo il derby ma anche le grandi squadre che si affronteranno sia il Teseo Bondi che il Gianni Falchi con la Champions. Guarda, io vorrei stare un po' dalla parte dei bottoni, come si dice, noi vogliamo fare bella figura, noi siamo a fare questo campionato, marcati Autovia, l'Autovia Castenaso vorrà fare bella figura su tutti i campi e non ci poniamo limiti, però dobbiamo essere conosci dal fatto che a un certo punto siamo una squadra promossa, perciò dobbiamo avere una crescita graduale, io ho piacere che sia questo entusiasmo da parte di dottor del gioco, vorrei dire che ci sostenerà anche in futuro, spero, e se la crescita è come vogliamo che sia, se tutto va bene, però penso che vada tutto programmato, non possiamo essere una neopromossa che mira domani mattina al play-off, sarebbe un po' troppo, perciò stiamo qui per terra, cerchiamo di fare le cose fatte bene, noi abbiamo attrezzato una squadra guidata dal manager Nanni che se sbaglia poco hanno fatica tutti a vincere tutto, poi la palla è tonda.